Festa Turris-Bari a fondo, sintesi del pomeriggio del Liguori con i pugliesi che nel pomeriggio del ritorno di Auteri in panchina incassano la sconfitta più pesante del torneo. Un 3-0 senza alibi che mette a nudo tutti i limiti di una squadra creata per vincere il campionato e che oggi fa paura a pochi avversari. Le formazioni nella Turris, Caneo recupera Bagnali in porta e Ferretti in difesa. Nel 4-4-1-1 fiducia a Giannone alle spalle di Longo e all'ex di Ignazio a sinistra. Sarà un fattore. Auteri, privo di Andreoni, Bianco, Sarzi e Citro, riparte con il Bari dal suo 3-4-3. Marra, Santenucci e Dursi compongono il tridente e di Cesare e Perrotta affiancano Sabbione in difesa. Dopo alcuni minuti di studio è del Bari il primo tentativo. Semenzato rifinisce al limite dell'area per Dursi, destro a giro che sorvola la traversa. Dopo un tentativo innocuo di Semenzato e la Turris a passare. Scambio nello stretto tra Giannone e Longo, pallone in profondità per Ferretti che centra sul secondo palo dove D'Ignazio brucia semenzato e firma l'1-0. Gol dell'ex per il laterale sinistro a Bari in Serie D nella stagione 2018-2019. Bocciato l'atteggiamento della difesa ospite nell'occasione. Il gol incassato scuote il Bari. La reazione in questo destro di Dursi dal limite dell'area. Diagonale bloccato da Abagnale. Il più vivace nel Bari è Marras. Mette a sedere Loreto in area. Assiste Antenucci e sulla ribattuta della difesa prova a calciare di prima intenzione. Abagnale attento. Para. E' l'ultimo lampo del primo tempo che si chiude sull'1-0 per la Turris. Si riparte con Cianci per Perrotta. Bari che passa al 4-2-4. Sei giri di lancette ed è però la Turris a raddoppiare. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sabbione e Di Cesare non allontanano. Pallone sui piedi di Loreto che tutto solo calcia di destro e batte frattali. 2-0 e difesa del Bari ancora da rivedere. Nel buio del Bari Auteri prova a dare un volto nuovo alla manovra. Con Lollo e Minelli per Dursi e Sabbione. Si passa al 3-5-2. La reazione però non c'è. Anzi è la Turris a sfiorare il Tris. Su un pasticcio di Minelli va il tiro Tascone. Di Cesare si mola e salva in corner. Dalla bandierina va Franco che sfiora il gol olimpico direttamente da calcio d'angolo. Prima giocata della domenica. Di Antenucci al minuto 80. Affonda a sinistra e appoggia a centro area per Marras. La cui deviazione non fa però male ai pali della Turris. Icona della domenica da cancellare del Bari. Finita qui? No. Perché al terzo minuto di recupero Alma scherza Sabbione come un birillo al bowling. Punta la porta e centra il bersaglio grosso. 3-0 e fischio finale. La Turris festeggia la salvezza. Bari che ora dovrà difendere almeno il quarto posto nell'ultimo impegno di stagione. Domenica prossima al San Nicola nel derby contro il Biceglie.